Nel treno Frecciarosa, arrivato ad Ancona da Pescara, c'è anche Patrizia. Oggi, dopo essere stata operata per un tumore, è volontaria di incontra donna. La fondazione che insieme al gruppo FS è a bordo del treno della prevenzione oncologica. Sono una fortunata perché faccio una prevenzione molto assidua e quindi sono stata fortunata. È stato un tumore molto preso in tempo, subito, non ho fatto quasi terapia. E quindi ho capito che la prevenzione è importante e per quello sto cercando di trasmettere agli altri quello che è stato il mio vissuto. Per tutto il mese di ottobre, a bordo dei treni Frecciarosa, regionali Intercity, sarà possibile ricevere una consulenza medica gratuita sulla prevenzione oncologica. Ogni anno in Italia si registrano 395 mila nuove diagnosi di cancro. Il tumore alla mammella, quello più diffuso, con quasi 56 mila casi nel 2023, di cui 500 maschili. Oggi, come oncologia medica, abbiamo fatto dei passi in avanti enormi. Molti tumori sono guaribili e anche e soprattutto cronicizzabili, curabili. Però la vera partita si vince sulla prevenzione. Noi dobbiamo solleticare, invogliare e incuriosire per scoprire il tumore nelle fasi iniziali, perché lì si vince veramente la battaglia. La campagna, quest'anno la numero 14, ha toccato le marche venerdì nell'ultimo giorno del G7 Salute. Ottobre è infatti il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Va nella logica della prevenzione che sappiamo essere un'arma determinante e risolutiva.